Un saluto dalla redazione del GR Asi in studio Marco Paganelli. Apriamo con la politica. 14.600 persone impegnate in avori gravosi saranno esonerate nel 2019 dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni. Lo ha annunciato Piercarlo Padoan. Il provvedimento costerà, fa sapere il ministro dell'economia, per il primo anno 100 milioni e nel triennio fino al 2021 quasi 385 milioni di euro. Nella tabella della relazione tecnica si stimano gli effetti fino al 2027 quando lo stop riguarderà 20.900 lavoratori per 166,2 milioni di euro. Andiamo all'estero. Il rumore rilevato mercoledì scorso dalla zona dove si trovava il sottomarino argentino scomparso nell'Atlantico è stata una esplosione. Il portavoce militare ha aggiunto che la deflagrazione sarebbe stata breve, violenta, ma non nucleare. Torniamo in Italia. Sono in corso notifiche da parte della procura di Pescara di 23 avvisi di garanzia per la vicenda dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga lo scorso 18 gennaio, che ha provocato 29 morti. Tra gli indagati vi sono anche l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, il presidente della provincia Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta e numerosi dirigenti pubblici. In chiusura, nuova raccolta di brani musicali di Fabrizio De Andresi intitolerà Tu che mi ascolti insegnami, uscirà il prossimo 24 novembre in tutta Italia. Le 78 canzoni ripercorrono l'opera di Faber per temi. L'amore e l'universo femminile, la spiritualità, il sogno, la guerra e la pace, il potere, la giustizia, la libertà, l'infanzia, la vita e oltre. Ogni cd un po' un album concettuale, come faceva Fabrizio nei suoi dischi, dice la cantante Dori Ghezzi. A De Andresi sarà dedicata anche la fiction Il Principe Libero, che andrà in onda a febbraio su Rai 1. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.